E ribadendo il concetto che ho maturato in 40 anni di esperienza come pubblico ministero e poi anche come modesto studioso di criminologia, che per quanto le pene siano elevate e vengano anche irrogate in modo rapido e certo, non costituiscono mai una deterrenza assoluta nei confronti dei reati in genere e soprattutto di questi tipi di reati in specie. Quindi anche se noi abbiamo, e adesso dirò due parole, abbiamo creato delle specie nuove e siamo intervenuti in questa legge che è a 360 gradi perché modifica il codice penale, in parte il codice di procedura penale, la disposizione della legge antimafia, l'ordinamento giudiziario, insomma è una legge estremamente complessa e molto articolata che certamente non è e qui non abbiamo la possibilità di spiegarne dei dettagli. Però ecco, mi associo a quello che ha detto la collega perché è soltanto attraverso un'operazione culturale che possiamo iniziare a ridurre, se non proprio a eliminare questi reati così odiosi.